Ciao a tutti cari amici, buonasera e bentrovati con un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Siamo qui con il nostro consueto appuntamento della canalizzazione del pensiero. Allora, ho già preparato questi due mazzetti, questa sera utilizzo le sibille, quindi abbiamo la variante 1 con questo simbolino qui, la variante 2 invece con questa luna avvolta da un arcobaleno, eccola qui. Allora, vi ricordo sempre di scegliere a distinto, che questi sono video generali, quindi costituite a tante energie, siete tanti, sono tante le vostre situazioni, non può naturalmente risuonare con tutti, quindi dovete cercare di capire se ci sono aspetti della vostra situazione, della vostra storia e cucirli in base al vostro rapporto. C'è chi può sentirla risuonare tutta, in parte, può esserci solo anche una frase, una parola, che in qualche modo vi deve risvegliare su qualche comportamento o deve aiutarvi a guarire su qualcosa. Quindi cercate sempre di ascoltarli con la mente aperta e non incastrate per forza quello che vi è letto dalle carte se non risuona con voi. Provate magari a cambiare variante o, se scendete nella descrizione del video, trovate una serie di playlist e magari c'è un video che vi attira. Allora, io parto subito con la variante 1, eccola qui, quindi per coloro che hanno scelto questo, non mi ricordo più se è lo scaccia incubi, non mi ricordo più che cosa fa esattamente questa cosa qui, comunque mi piace un sacco, ne ho parecchie a casa, e apriamo le carte, vediamo un po' che succede qui. Allora, le nostre Sibille qua ci parlano di una persona che vi pensa un po' come la sua casa, la sua famiglia, si sente a proprio agio con voi, qua parliamo proprio di un ambiente familiare, quindi o è una persona che è impegnata e quindi pensa a una famiglia, se sapete già che c'è questa famiglia però, altrimenti qui è una persona proprio che sente una sorta di familiarità con voi, quindi sente di potersi fidare, di potersi esprimere, di potersi confidare anche, direi che ha anche una sorta di libertà, quindi sa di potersi esprimere, di poter esprimere le proprie emozioni. Io direi che in questo momento tra di voi probabilmente c'è un distacco, c'è un allontanamento, questa persona sente freddezza, sente che qui si è un po' perso quello che era il modo di stare insieme, quindi da una situazione di affetto, di tenerezza, qua c'è un distacco, un distacco emotivo principalmente, quindi una persona che percepisce un allontanamento da parte vostra. Qui mi fa pensare che probabilmente vostra o della persona stessa, tant'è che è in uno stato di forte sofferenza, qui c'è proprio il dispiacere, quindi una persona che si sente abbattuta per quanto successo e vorrebbe, sente il bisogno di ritornare ad avere questa situazione che c'era prima di benessere. Io direi che per coloro che sanno che questa persona ha un rapporto ufficiale, probabilmente credo che abbia subito un distacco da parte vostra o si sia staccata questa persona perché non può a causa del rapporto ufficiale oppure voi appunto vi siete allontanate perché avete capito probabilmente che da questa persona non ottenete quello che desiderate e quindi c'è una sofferenza da parte di quest'uomo perché forse il suo desiderio era anche proprio quello di creare una casa, di costruire anche una famiglia con voi per molti di coloro che stanno guardando il video. C'è un senso di perdita, questa persona è affranta, è avvolta da rimpianti, gli dispiace moltissimo per quello che sta succedendo e qua c'è il desiderio di comunicare con voi. Vorrebbe esprimersi, vorrebbe dirvi qualcosa, però vedo qui appunto che l'aspetto della casa, della famiglia è molto importante in quanto esce al centro della stesa, quindi qui mi fa pensare che c'è proprio un'altra famiglia, una famiglia d'origine o una famiglia ufficiale che in qualche modo sta bloccando la crescita di questo rapporto, ma questa persona sta molto male, soffre molto la vostra mancanza perché siete importanti per questa persona. Qui naturalmente potrebbe esserci anche l'incontrario, quindi voi avete un rapporto ufficiale, una casa e quindi questa persona sta male per questa situazione perché sa che non vi può avere, c'è una perdita, un allontanamento. Forse se gli avete mandato per esempio un messaggio dicendogli guarda non possiamo avere niente o comunque in qualche modo lo avete allontanato, questa persona ci soffre molto, ci pensa molto. Qui dovete naturalmente dirmi voi, mi raccomando fatemi sapere nei commenti. Vediamo con le carte del vorrei dirti che, qua dice non riesco a lasciarti andare, arriverà un invito da parte mia, guardate c'è il messaggio, arriverà un invito da parte mia, variante 1 che altro ci dice, sei solo amicizia per me, ho paura di soffrire nuovamente, voglio stare con te, ecco qui, allora in fondo mazzo abbiamo non mi fido più di te, qui direi che ci sono appunto più varianti, come dicevo all'inizio, questa persona se è impegnata o se siete impegnate voi ha delle grosse difficoltà nel lasciarvi andare, infatti dice non riesco a lasciarti andare, è una persona che secondo me prova dei sentimenti, ora non mi escono delle carte specifiche, però naturalmente soffrendo in questo modo si presume che c'è in quanto meno un attaccamento. È una persona che vuole comunicare, ma l'abbiamo vista anche con la carta del messaggero, qua vuole inviarvi un messaggio, vuole mandarvi un invito, dice ho paura di soffrire nuovamente, quindi probabilmente per alcuni di voi, ma io direi per pochi, c'è un distacco da lungo tempo, una persona che sta rimuginando un po' su una situazione che è accaduta tanto tempo fa e avrebbe l'intenzione, l'intento di ripartire, di ricominciare, però appunto qui ha paura di star male, dice voglio stare con te, però è molto attratto nel venire da voi, verso di voi, perché vuole costruire qualcosa, infatti come dicevo prima la carta della casa mi può significare anche proprio il fatto di voler costruire un rapporto stabile, un rapporto duraturo. Per alcuni qua dice sei solo amicizia per me, quindi non escludo che per chi abbia, sappia che questa persona ha un rapporto ufficiale, probabilmente è una persona con la quale è partita un'amicizia, che è andata verso una situazione diversa, per alcuni di voi magari potreste avere avuto anche rapporti intimi o quant'altro, però questa persona di fatto è ancora legato alla famiglia, alla casa. Per altri, attenzione, perché potrebbe questa stesa rispecchiare quello che lui pensa di voi, quindi il fatto che stiate soffrendo, il fatto che stiate male per la presenza di questa famiglia. Vediamo un messaggio motivazionale per voi, qua abbiamo, questo è un giorno di completamento, so e affermo che sono tutt'uno con l'infinito potere, ogni cosa nella mia vita va al suo posto facilmente e senza sforzo. Quindi qui le carte vi invitano a stare sereni e tranquilli, perché ogni cosa a suo tempo trova la giusta posizione nella vostra vita. Sono disposto a vedere solo la mia perfezione, penso e dico solo ciò che voglio creare nella mia vita, sono più che adeguato per tutto ciò che ho bisogno di fare. Quindi qui le carte vi dicono di mantenere alta la vostra autostima, perché voi siete in grado di ottenere tutto quello che volete, quindi se questa persona in qualche modo vi ha allontanato, non è disposta a darvi quello che volete, non è colpa vostra, non siete voi il problema. Andiamo a prendere un messaggio consiglio, pensa con ottimismo alla tua vita amorosa, pensare positivo e avere fiducia ti porteranno l'amore. Quindi qua le carte vi dicono di non disperarvi per questa situazione, perché presto ci sarà un mutamento o con questa persona o nella vostra vita, quindi può arrivare anche una persona nuova. Fatto sta che qua vi dicono siate positive, non riempitevi di energie negative, non fate pensieri che negativizzano la vostra situazione, perché sta arrivando qualcosa, ma solo se lavorate su voi stessi e se guarite, se riequilibrate le vostre energie. Fatemi sapere nei commenti, mi raccomando che io ci tengo molto, che vi leggo sempre, vado a prendere disegnito di accali per voi, allora abbiamo il segno dell'acquario, il segno della vergine, il segno dei pesci, il toro e l'ariete. Quindi acquario, vergine, pesci, toro e ariete. Va bene, variante numero uno, io vi ringrazio moltissimo per aver seguito, vi ricordo che mi potete contattare via mail a tarot, tai tarot, chiocciolagmail.com oppure con un messaggio whatsapp al 371 636 0228. Io vi ricordo che di iscrivervi al canale, di mettere un like se il video vi è piaciuto e nulla, vi aspetto domani con una nuova canalizzazione del pensiero e con molti altri interattivi. Io vi mando un abbraccione grossissimo e vi auguro una buonanotte. Allora, passo adesso alla variante numero due, quindi per coloro che hanno scelto la luna con l'arcobaleno. Allora, mettiamo qui la variante e andiamo ad aprire la stesa. Vediamo che cosa ci dicono le carte oggi. Allora, qui direi che la persona a cui pensate è veramente molto, molto scossa. È una persona che si sente un po' al settimo cielo. Mi dà l'idea che ci siano proprio le farfalle nello stomaco, l'agitazione. Abbiamo una persona che è stupita di voi, del vostro carattere, di come siete, di quello che c'è tra di voi. Per cui è una persona che probabilmente ha cercato qualcosa per lungo tempo sperando di trovare qualcosa e è rimasto sorpreso da come siete voi e da quello che è riuscito finalmente a trovare. Vedete come abbiamo qui una persona che comunque scava sul terreno e trova questi gioielli preziosi. Quindi, pensa che a forza di sforzo, di fatica, finalmente ha trovato qualcosa per cui vale la pena in qualche modo investire e lottare. È una persona che ha dei sentimenti, che è innamorata, che probabilmente ha intenzione di corteggiarvi se ancora non lo ha fatto. Però vedo che qui c'è anche un po' il timore da parte di questa persona di una presa in giro. Per molti di voi, allora, qui esce la donna maritata, quindi o siete già impegnate voi, la donna è sposata o ha una convivenza o è fidanzata e quindi quest'uomo ha paura di essere preso in giro, ha paura di avanzare, di fare una mossa perché lui capisce, vi considera delle perle rare e vorrebbe corteggiarvi, vorrebbe farlo, però probabilmente lo sta anche già facendo per alcuni di voi, magari flirta o comunque sta mostrando un piccolo interesse. Però qua, al centro della stesa, mi esce la carta dei deliranti, che è una carta che mi parla di confusione sia in senso positivo ma anche in senso negativo, nel senso che potrebbe riguardare anche proprio l'aspetto del sentirsi preso in giro o avere paura di prendere un due picche, di essere illuso, ecco, per poi scoprire invece di essere appunto niente. Questo perché? Perché voi, se siete impegnate, questa paura, questa persona teme appunto che non siate sincere nel vivere il rapporto con questa persona. È un uomo comunque gentile che è ben disposto nei vostri confronti e ha tutte le intenzioni, ha delle intenzioni serie verso di voi. Se voi non siete impegnate e non avete alcun tipo di relazione, questa persona è assolutamente entusiasta, anzi ha il cuore che batte a mille per voi perché vi ritiene proprio la donna giusta, la donna con cui costruire una famiglia, con cui avere dei figli, con cui avere una casa ed è una persona che ha intenzioni serie con voi. Poi abbiamo il gran signore che ci parla di una persona che ci protegge, è una persona che ha delle intenzioni serie anche relative al futuro. Quindi abbiamo un uomo che vuole proseguire questo rapporto perché è innamorato, gli piacete. Vediamo che altro dice qui. Ho le mani legate. Ho le mani legate. Non è il momento giusto. Mi spiace se ti ho ferito. Qua dice non sono libero e ti desidero. Qui abbiamo ti mangerei. Allora, l'attrazione, il sentimento c'è. Qui con queste carte mi fa anche venire in mente che non avevo considerato l'aspetto dei litigi all'interno della propria casa di questa persona con questi deliranti. Qui forse per alcuni di voi se questa persona appunto è impegnata come sembra risultare per la maggior parte di voi naturalmente sono interattivi quindi ci sono più situazioni in queste estese. Qui diciamo le mani legate. Non è il momento giusto e non sono libero. Qui mi fa pensare che questa persona sia innamorato di voi. vi consideri qualcosa di bellissimo che gli è capitato nella vita però vedo che qui i deliranti mi parlano anche di litigi. Quindi probabilmente c'è un grosso ci sono dei grossi conflitti con una donna ufficiale se questa persona appunto è già impegnata come emerge. E nonostante ciò è una persona che vuole comportarsi bene con voi però qui sa dice mi dispiace se stia ferito quindi qualcosa è successo o si è allontanata da voi o non vi sta dando quello che vorrebbe e che vorreste voi comunque qualcosa qui è successo. In ogni caso è una persona che prova dei sentimenti che vi ama che vi desidera molto. Vediamo qui i messaggi motivazionali per voi. Allora seguo la mia saggezza interiore sono in pace con il mio essere mi amo e confido di prendere decisioni giuste quindi decisioni giuste per voi ma giuste per voi nel senso che qui siete voi che dovete decidere cosa fare il vostro bene cioè se volete fare un passo verso questa persona se volete girarvi da un'altra parte questo aspetta solo a voi e qui dice mi amo e confido di prendere decisioni giuste quindi amate voi stesse e prendete le decisioni per voi senza farvi condizionare dal comportamento di questa persona scelgo la gioia la mia vita è una gioia e qua dice scelgo la gioia la vita è qui perché io ne tragga gioia oggi quindi qua le carte vi dicono trovate una situazione che vi crei gioia amore serenità è questa situazione restate in questa situazione non lo è prendete la decisione giusta per voi vediamo un consiglio per le carte quindi questo è quello un po' a cui dovete pensare di voi cioè il fatto di essere in grado di fare queste scelte di essere in grado di scegliere la vostra serenità la vostra gioia perché probabilmente qui per alcuni di voi siete un po' legate da questa persona vi state un po' bloccando questo è il consiglio luna di miele godi con gioia del tempo trascorso insieme in vacanza qui le carte vi dicono di godere il tempo che passate con questa persona ma godervi il vostro di tempo quindi se qui è previsto un viaggio una gita una vacanza non come posso dire bloccate le opportunità per la presenza di questa persona ma vivete quello che state che avete di fronte quindi se arriva una persona che vi piace vi interessa vedete che comunque vi da di più prendete le vostre decisioni vediamo qui abbiamo la riete abbiamo il toro la bilancia lo scorpione e il sagittario quindi a riete toro bilancia scorpione e sagittario va bene ragazzi mandatemi mettete un like se vi è piaciuto il video commentatemi ditemi se la stesa ha risuonato con voi io vi ricordo che per un consulto privato mi potete contattare via mail via whatsapp a tarot taitarot chiocciolagmail.com e al 371 636 0228 con un messaggino whatsapp io vi mando un abbraccio grossissimo auguro una buona serata a tutti e vi aspetto domani buonanotte